buonasera ciao a tutte e a tutti gli ascoltatori e gli spettatori di questa diretta facebook grazie soprattutto al circolo di lettori di torino che ci dà questo spazio sarà una bella chiacchierata ma una chiacchierata veloce che faremo parlando di due libri che in realtà non dovrebbero nemmeno avere grossa importanza non dovrebbero essere stati scritti e lo dico in maniera totalmente auto lesionistica perché io sono uno dei due autori saluto a tutte a tutti sono francesco filippi come si dovrebbe leggere in basso sotto di me se ho compilato tutto quello che dovevo in maniera corretta sono uno storico della mentalità faccio parte dell'associazione deina che da anni si occupa di viaggi di memoria e da un anno un anno e mezzo mi è capitata l'avventura di scrivere dei manuali che parlano di un argomento che evidentemente non passa mai di moda cioè il fascismo io questa sera parlerò insieme a paolo berizzi con voi di del mio ultimo libro ma perché siamo ancora fascisti un conto rimasto aperto bollati boringhieri e accanto a me come avrete capito da no da questa parte c'è paolo berizzi giornalista di repubblica che sicuramente non c'è bisogno che io presenti con paolo io lo diciamo subito smetteremo i panni paludati della copresentazione e passeremo subito al tuo immagino perché questa ci conosciamo già quindi sarà una chiacchierata tra amici che che stenderemo anche a voi e questa sera in particolare è chiamato a parlare di un libro di un suo libro di grande successo che purtroppo oserei dire si collega direttamente passa dalla dalla storia alla cronaca mi riferisco ovviamente all'educazione di un fascista paolo noi siamo qui avremmo un'ora ma parlandoci scambiandoci convenevoli all'inizio di questo incontro mi pare di aver capito che questo passato che non passa ti richiama ancora una volta ad essere presente a te stesso a noi mi dicevi ci dicevi che hai una serata abbastanza complessa entriamo proprio con i piedi mettiamo i piedi sulla tavola e parliamo del fatto che cosa dovrai fare oggi tanto per capirci se il fascismo e i fascisti sono ancora presenti in questo paese che cosa sei costretto a fare oggi raccontaci ma grazie francesco e un saluto a tutti ma guarda molto banalmente sono chiamato a fare il mio lavoro di cronista lo abbiamo oggi abbiamo dato conto su repubblica il giornale per il quale lavoro aprendoci il giornale di questa sfida che sarà una una sorta di prova di forza da parte della destra che domani va all'assalto del 2 giugno cioè il tentativo di mettere il cappello su la giornata la giornata nella quale la repubblica democratica celebra la propria nascita e la nascita della repubblica italiana è stata ovviamente favorita dalla liberazione di questo paese dal nazifascismo c'è stato un referendum poi dove gli italiani hanno scelto di dare dare a questo stato la forma appunto di una repubblica e non di una monarchia e oggi su sul nostro giornale che si chiama appunto repubblica abbiamo abbiamo raccontato appunto abbiamo anticipato la giornata la giornata di domani quindi sono banalmente chiamato a continuare in questo racconto per informare i lettori su quello che io racconto e cerco di indagare da anni cioè il rischio che dietro la riorganizzazione di questi gruppi neofascisti populisti oggi abbiamo visto che accanto alle camicie nere ci sono anche i gilet arancioni e spesso le due cose si intrecciano dietro questi rischi si nasconde un pericolo per la nostra democrazia e cioè il rischio di una deriva autoritaria laddove come è accaduto purtroppo in altri paesi ci sono gruppi movimenti spesso che nascono in breve tempo che lanciano la sfida della piazza alle istituzioni democratiche quindi insomma c'è da lavorare sono giorni intensi purtroppo da tempo metto in conto che dopo ogni mia inchiesta dopo ogni servizio lavoro di ingrandimento su questi fenomeni c'è un'ampia purtroppo un'ampia schiera di odiatori che si scatenano sui social indirizzandoci indirizzandomi in questo caso tutta una serie di manifestazioni d'affetto d'amore di stima si fa per dire ovviamente quindi e quindi c'è anche questo aspetto e però insomma con molta serenità con molta serenità si fa si va avanti nel lavoro e credo che questo sia un tema ci porti direttamente dentro il tema del tuo e del mio libro e quindi e quindi quindi il 2 giugno e quindi 25 aprile c'era stato un problema molto simile il 6 giugno l'abbiamo raccontato oggi su repubblica sempre a roma ci sarà una manifestazione degli ultra di estrema destra la prima manifestazione politica delle curve degli stadi nella storia del calcio italiano e anche questo evidentemente è un segno dei tempi non bastano più le curve gli ultra si spostano in piazza per far che cosa per contestare il governo l'attuale governo di centro sinistra penso che anche questo tutto questo ovviamente cavalcando cavalcando il coronavirus e quindi tutto ciò che dal coronavirus è derivato ecco è un momento intenso e noi che facciamo informazioni siamo chiamati ovviamente a raccontare a documentare questo questa stagione un po particolare sì vuoi che permettimi un diciamo una nota oppositiva con tutto il sarcasmo che riesco a metterci fare il reporter è un lavoro complicato purtroppo un lavoro anche rischioso ma per quale motivo la gente se la prende con noi storici perché in realtà devo dirti che ovviamente con mutatis mutanis con un altro volume di fuoco evidentemente ma mi sono trovato e con me anche colleghi penso a carlo greppi penso a david bidussa mi sono trovato ad essere al centro di querelle di gente che parlava del mio libro evidentemente senza per lo più averlo letto e che mi accusavano di fare politica perché parlavo di fascismo io parto da un presupposto essendo uno storico io mi occupo di gente morta quindi non non entro nell'attualità che lascio a ben altri sviluppare ma per quale motivo questo filo rosso brutale diretto parte direttamente dal 1945 anzi oserei dire dal 1943 all'inizio di quella che Claudio Pavone in maniera perfetta definì una guerra civile tra gli italiani e arriva fino ai nostri giorni io mi sono occupato nel mio libro di tentare di comprendere per quale motivo non sono stati smontati determinati altarini del fascismo e non siano stati costruiti nuovi modi di raccontare se stessi da parte degli italiani però nel momento in cui in questo stretto e compresso calendario civile che è quello italiano che va dal 25 aprile al 2 giugno ogni anno ci ritroviamo a dire stesse cose anzi ogni anno con più vocabolo che va molto di moda ultimamente purtroppo con più virulenza ci troviamo ad inciampare in questo tipo di cose evidentemente un modo per costruire una narrativa altra non c'è stato e tu ti occupi appunto direttamente di questo nell'educazione di un fascista come come nasce come si sviluppa un fascista oggi in italia poi se vuoi ti racconto brevemente come come non sono morti gli afflati fascisti dopo il 45 ma guarda la prima di di raccontarti come come rinasce un fascista perché poi è questo che racconto nel mio libro aggiungo soltanto una cosa brevissima al tuo ragionamento la tua riflessione innanzitutto il 2 giugno di quest'anno tu parlavi di un calendario e a differenza è un inedito nel senso che non era mai successo dal 47 ad oggi che una parte politica in questo caso la destra provasse a dare ad appropriarsi di una festa di tutti perché il 2 giugno è la festa per eccellenza degli italiani quindi è un tentativo strumentale propagandistico e che non era mai accaduto fino fino ad oggi ecco perché abbiamo ritenuto oggi di aprirci il nostro giornale ed è un fatto secondo me non irrilevante e poi aggiungo anche questo tu dicevi perché perché in questo caso ci rifariamo 25 aprile tutte e tutte le beghe che su queste liturgie nelle quali io credo molto nel senso che se noi oggi persino i fascisti oggi hanno la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero e su questo poi andrebbe aperto un sottodibattito e questo è stato reso possibile solo da chi ha eliminato la dittatura fascista e l'occupazione nazista da questo da questo paese e però questo qualcuno non non se lo ricorda tu prima dicevi che se noi scriviamo questi libri che sarebbe stato meglio e bene non non aver pubblicato per certi versi nel senso che significherebbe che il fascismo è un problema in qualche modo eliminato e sepolto in realtà così così non è infatti se dovessimo raccontare il tuo ed il mio libro con uno spot a me viene questo spot cioè c'è c'è un passato che non passa e quando il passato non passa il futuro non arriva tu ti occupi di passato ti occupi di storia di morti dicevi io mi occupo dell'oggi quindi il mio è un libro sul presente e mi auguro non sul futuro ovviamente e però quando tu ti chiedi perché siamo ancora qui a parlare di fascismo no o di fascisti che rinascono magari sotto forme nuove inedite difficilmente tracciabili anche per chi le studia ogni giorno come come il sottoscritto e ci dobbiamo fare una domanda e secondo me a questa domanda risponde molto bene il sondaggio che ilvo diamanti ha fatto e che abbiamo pubblicato oggi scusate l'autoreferenzialità sempre su repubblica dove dove si dice che quattro italiani su dieci sono disposti a a a vedere sospesa la democrazia pur di avere una sicurezza certa allora e quindi in qualche modo ad affidarsi ai pieni poteri di un uomo forte questo è il punto secondo me da cui dobbiamo partire con la nostra riflessione nel momento in cui quasi la metà degli italiani e sono disposti a perdere dei pezzi di libertà e dei diritti garantiti e conquistati con con enormi sacrifici e anche con un tributo di sangue epocale per 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 avere delle piccole certezze per sentirsi più protetti in un in un momento di fragilità anche per la democrazia per le democrazie perché stenderei il discorso all'europa ma 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 anche a degli a delle a delle a delle nazioni e dei continenti del mondo basta vedere quello che sta accadendo in queste ore in questi giorni negli stati uniti d'america in brasile in russia in turchia nella corea del nord insomma ma non voglio farla non voglio farla lunga e quindi partiamo da questa riflessione mi chiedevi come rinasce un fascista guarda io ho deciso di scrivere sto libro per chiudere un po il cerchio su vent'anni di inchieste e di approfondimenti sulla galassia dell'estrema destra in italia innanzitutto mi chiederei perché rinasce un fascista nel 2020 è una domanda che può sembrare retorica e o una domanda davvero che dovrebbe essere appannaggio soltanto degli storici come è nato il fascismo o come sono nati i fascisti no come rinascono i fascisti allora se un cronista un inviato si pone questa domanda e cerca di dare delle risposte è già un segnale secondo me è un campanello d'allarme perché significa che questo passato che fa fatica a passare è ancora intorno a noi un fascista rinasce con con forme spesso inedite spesso insospettabili io racconto nel mio libro le regole d'ingaggio con cui oggi si forma una nuova generazione di giovani soldati politici i luoghi le modalità con cui viene formato il fascista 3.0 c'è una riscoperta poi magari ci torniamo insieme di vecchi slogan parole d'ordine prese direttamente da quell'armamentario chiamiamolo culturale anche se forse non è la parola più appropriata del del ventennio fascista e slogan come patria onore orgoglio italiano lealtà paroli che non sono state usate solo dei fascisti ovviamente ma che oggi vengono copie incollate in modo con una strategia che c'è chiaramente di fondo un metodo e vengono date in pasto ai giovani alle nuove leve del neofascismo rielaborate rimasticate e riproposte in chiave in quella che tutti noi chiamiamo per semplificare in chiave sovranista la difesa dei confini l'importanza della nazione e la riscoperta dell'orgoglio della patria e dove dove in realtà questo concetto viene declinato in una chiave che ha molto a che fare con il senso di grandezza che il fascismo voleva trasmettere agli occhi della popolazione e poi anche all'esterno agli stati alleati ecco tutto questo ritorna ritorna dove in luoghi insospettabili le palestre per esempio i luoghi dove si fa sport dove non vengono soltanto creati degli atleti ma vengono formati anche dei guerrieri politici le giovani reclute dei gruppi dei movimenti neofascisti e o in alcuni casi anche neonazisti c'è tutto un circuito di associazioni gruppi sportivi circoli dove accanto alle discipline sportive che so al alla box al calcio agli sport da combattimento per esempio le arti marziali miste no mma accanto alla disciplina sportiva viene anche viene associato anche un pacchetto diciamo di slogan e di contenuti se vogliamo usare un termine alto che che ripropongono le idee di cui parlavamo prima e poi le scuole ovviamente le università le curve degli stadi di cui si parlava all'inizio della nostra chiacchierata le piazze non soltanto quelle virtuali il web dove che oggi ci ospita nella nostra nel nostro incontro ma anche la piazza fisica i gilet arancioni di pappalardo personaggio dal curriculum eversivo documentato e agli atti domani non sono su facebook o su o su instagram o su telegram magari sono partiti dai social ma si ritrova in una piazza fisica e quindi anche qui c'è un passaggio un ritorno a scenari che credevamo dimenticato dove l'odio la rabbia le pulsioni identitarie all'inizio ma che poi diventano qualcosa di più accentuato albergano non soltanto sulle chat ma anche nelle piazze fisiche domani ci saranno in piazza del popolo sabato erano in piazza del duomo a milano e li trovi quelli che si formano nelle curve degli stadi li trovi quelli che si formano nelle palestre dove dove magari ci sono le croci celtiche o le rune o le rune già utilizzate dai nazisti o le svastiche lì trovi la militanza che fa attività politica e poi magari la domenica va allo stadio ad insultare il giocatore di colore o a esporre striscioni contro gli ebrei ecco questo è il brodo di cultura che io ho cercato di dragare e di raccontare e il fatto che tutto questo accada 75 anni dopo la fine del fascismo in un paese nel paese che è stata la culla del fascismo e che ha saputo sconfiggere il fascismo beh io credo che tutto questo abbia abbia un'importanza notevole e debba interrogare non soltanto gli storici come te non soltanto i cronisti come come me ma ogni individuo che si riconosca nei valori della costituzione e anche consentimi nelle leggi italiane perché come spesso ci ripetiamo a volte può sembrare uno slogan vuoto o stanco il fascismo non è un crimine ma è un'opinione e questo non lo decide francesco filippio paolo berizzi lo stabiliscono le leggi italiane ce ne sono due la legge scelba e la legge mancino che mettono il fascismo al bando cosa già scritta nella costituzione ma che evidentemente molti italiani purtroppo sempre di più si sono si sono dimenticati o fanno finta di non di non ricordare è lì che devono intervenire le istituzioni democratiche è lì che gli studiosi gli operatori dell'informazione e da altri debbono debbono far valere i presidi democratici perché questo è un paese che si è liberato dal fascismo questo è un paese che non può riconsegnarsi a nulla che abbia anche soltanto da lontano le sembianze di un nuovo fascismo trovo molto interessante questo tutto racconto intanto stanno cominciando ad arrivare le domande e pian piano poi le sviscereremo una una e ce le faremo queste domande che stanno arrivando da parte di chi si sta guardando ho trovato molto interessante la tua disamina su diciamo i brodi i luoghi in cui nascono i brodi di cultura dei nuovi fascisti prima di tutto perché lasciamelo dire da da diciamo da cultore della materia storica vedo molta confusione sotto al cielo nel senso che vedo dentro tutto il contrario di tutto vedo una narrativa repubblichina prima ancora che fascista diciamo del dio patria e famiglia della costruzione del regime filo monarchico comunque che con la monarchia ebbe a che fare poi appunto le rune le croci celtiche diciamo che c'è un armamentario un po' raffazzonato devo permettermi di dire una cosa di questo tipo da parte di persone che evidentemente hanno bisogno di un afflato identitario di un qualche tipo e su questo io mi permetto di puntualizzare un paio di temi che nel mio libro ho cercato di di focalizzare quando nel 1943 dopo il 25 luglio del 43 il fascismo cessa di essere un regime e diventa uno del dei degli attori dello scontro della guerra civile italiana in particolare dopo l'otto settembre in questo paese c'è una definiamola un terremoto di carattere ideologico abbiamo due stati che si contendono la continuità il regno del sud che poi diventerà il regno d'italia a tutti gli effetti con casa savoia scappata brindisi e abbiamo la repubblica sociale italiana abbiamo tre diversi modi di intendere quello che sarà il futuro d'italia in campo abbiamo la corona dei savoia che tenterà in qualche modo di restaurare la chiamiamo la democrazia dell'italia liberale degli anni venti che tra l'altro paradossalmente lei stessa ha contribuito in maniera così determinante ad ammazzare avremo i membri variegati ma uniti in uno scopo del del comitato di liberazione nazionale che andava dai dai monarchici fino ai comunisti libertari e che sognavano un'italia diversa e che erano uniti dall'idea che qualsiasi italia sarebbe nata qualsiasi italia fosse nata dalla dalla fine della guerra civile non sarebbe stata un'italia totalitaria e abbiamo anche ultimi ma non ultimi i famosi famigerati per quel discorso a camera di violante ragazzi di salò i quali combattevano per la perpetuazione dell'idea totalitaria prima di tutto devo dire che una delle cose interessanti è che tutte e tre queste visioni del paese lasciano orfana la visione del fascismo comanda il fascismo dal 1922 1943 non entra negli schemi di racconto se possiamo definirli così ovviamente né del cln né di casa savoia che si devono ripulire ma nemmeno dei repubblichini che negano con col manifesto di verona che il governare abbia fatto bene i fascisti infatti diventano repubblicani perché si richiamano quel sansepolcrismo come diciamo nei storici del 19 in qualche modo sembra negare la memoria di questi vent'anni il paradosso che appunto mi salta all'occhio è che per costruire una nuova memoria dopo il 45 la prima cosa che si fa è perdere per strada gli ultimi vent'anni di storia e quindi anche di memoria del paese che rimangono totalmente orfani e che vengono poi recuperati in maniera un po un po caotica e di cui mi occupo e faccio questa premessa perché in realtà quella l'italia lì l'italia che nei vent'anni gioca con il suo imperialismo gioca con i labari gioca anche con con la bandiera perché ad un certo punto nella storia di questo paese e cito uno storico che ritengo al di sopra di ogni sospetto ovvero Renzo De Felice che non può essere accusato di di cripto di cripto socialismo almeno ad oggi Renzo De Felice parla di consenso al fascismo ed effettivamente negli anni 30 essere italiani ed essere fascisti eh per un certo periodo fu sostanzialmente la stessa cosa da qui mi mi collego ad una domanda che vedo tra l'altro da una persona eh ai noi conosciuta cioè lo storico Carlo Greppi che eh tra l'altro ha un bel eh un bel libro in in uscita che è l'antifascismo non serve più a niente Carlo ci chiede con con sincerità in maniera diretta una domanda da non circunnavigare per piacere non pensate che i giornali mainstream Repubblica compresa abbiano soffiato fin troppo sulla fiamma patriottica con enorme ingenuità in questi mesi ecco mi permetto una risposta volante eh mettendo il carico da undici anche io ho notato Paolo questa cosa anche io ho notato che ehm la prima risposta di carattere unificante e identitario che questo paese ha cercato di darsi è stata una una risposta eminentemente novecentesca una una risposta sfacciatamente novecentesca appunto da bandiera sui eh sui balconi io non critico questa scelta per carità perché sono evidentemente eh erano evidentemente tu tra l'altro eh vivi a Bergamo che è stato uno degli epicentri di questo eh tsunami pandemico eh è evidentemente c'è stata evidentemente necessità di costruire un'identità comune che portasse un suo strato comune devo dirti però che nel tardo eh secondo decennio di 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 questo millennio entrante eh sono rimasto colpito dal fatto che nel momento del bisogno gli italiani abbiano in qualche modo tirato fuori la bandiera e l'abbiamo tirata fuori in una maniera particolare non con un patriottismo diciamo eh ancora passami termini dal libro cuore ma con il patriottismo che per esempio eh tu lo ricorderai meglio di me perché eh i giornali di 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 li fai e li frequenti era un patriottismo che accusava la Francia di essere cattiva nei nostri confronti la Germania ha ottenuto questo titolo la Germania gelosa della propria immunità cioè queste personificazioni che a me da storico hanno riportato direttamente la memoria e allo scontro di potenze o al valzio delle potenze di Bismarck o addirittura purtroppo in maniera drammatica alle personificazioni degli stati della prima guerra mondiale e rispondo io a a Carlo eh abbiamo usato troppo la fiamma tra l'altro le virgolette su fiamma patriottica evidentemente ci potrebbero portare a domani sull'altare della patria o o di vicino diciamo perché mi pare che sull'altare non ci si possa andare se non sia presidente della Repubblica il 2 giugno eh eh trovo anch'io che sia stata una risposta interessante ehm quella di eh rispolverare determinati ori patri che purtroppo nel nostro paese confinano spesso con l'autoritarismo di cui parlavamo tu che ne pensi? Ma io non mi sottraggo alla domanda che riguardava appunto i giornali mainstream tra cui tra cui quello per cui lavoro eh saluto e ringrazio Carlo Greppi e lo ringrazio perché perché comunque pone una pone una riflessione che è interessante eh io non so se eh aver raccontato i tricolori sui balconi o la gente che da Foggia a Bergamo da Brescia a Napoli si affacciava sui terrazzi alle sei alle sei e mezza insomma per cantare eh quello che gli pareva non so se tutto questo sia stato un eccesso di semplifico ovviamente di 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 narrazione patriottica o di patriottismo 3.0 non so so che tutti i giornali eh chi più chi meno hanno fotografato questi momenti senza forse interrogarsi più di più di tanto su su quello che ci stava dietro io credo che i tre mesi tu ricordavi io vivo a Bergamo quindi vivo in un in uno dei territori più falcidiati non in Italia ma al mondo da Covid-19 e ho vissuto questi tre mesi lavorando sul campo quindi raccontando ogni giorno quello che accadeva negli ospedali nelle RSA eh raccontando le colonne di camion militari che trasportavano le bare perché eh le camere mortuarie e i forni crematori a Bergamo non erano più in grado di accogliere i morti e quindi ho raccontato scenari e mi scuso per per l'espressione scontata e banale scenari quasi bellici anche se anche lì qualcuno faceva le pulce diceva non parlate di guerra perché la guerra non è questa beh io mi chiedo se otto mila morti in una in una provincia in una città di cento ventimila abitanti che con la provincia raggiunge sì il milione di abitanti ma insomma otto mila morti in 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 tre mesi non siano numeri da guerra dal mio punto di vista lo sono ma perché dico questo perché questo periodo è stato un periodo sospeso non soltanto per le per le nostre vite evidentemente ma anche per chi in qualche modo ha dovuto raccontarli eh io rispetto ovviamente di questa lettura che 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 greppi faceva del 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 modo con cui i giornali hanno raccontato la reazione e e che 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 forse è stata anche un po un istinto di sopravvivenza eh degli italiani eh quello che so perché li ho li ho incontrati ho parlato con le persone di Bergamo della Val Seriana cioè di quelle zone dove colpevolmente qualcuno e mi auguro che le responsabilità vengano accertate fino all'ultimo grammo dove qualcuno non ha voluto fare quella zona rossa che forse avrebbe avrebbe evitato qualche qualche migliaia di morti e forse quel numero sarebbe stato eh più più eh più eh asciutto rispetto a quanto in realtà è diventato parlando con la gente io spesso ho incontrato davvero eh persone eh colpite ovviamente da lutti questo accaduto a Bergamo in quasi tutte le famiglie o comunque da malati di coronavirus e io sinceramente ho sospeso il giudizio non mi sono interrogato sul perché queste queste persone all'inizio poi non è durata poi molto nel senso che poi la gente ha perso poi la voglia di uscire a cantare alle sei e mezza all'orario del del dell'aperitivo o a suonare la chitarra sui balconi e devo dire che 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 forse affrontare questi momenti con con sobrietà dal mio punto di vista ma è soltanto un mio punto di vista eh eh è è un approccio migliore rispetto a quello appunto di però chi può giudicare chi può giudicare e non so se 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 me la sento di tirare in ballo l'approccio novecentesco rispetto a delle fotografie o delle immagini che poi sono diventate anche un po' iconiche di questo periodo no dall'infermiera eh che si addormenta sulla sua scrivania ai murales che a Bergamo ricordano quelli che qualcuno certamente esagerando ha chiamato anche qui forse con un con un enfasi ehm forse fuori luogo ma chissà gli eroi del nostro tempo no? E cioè gli infermieri e i medici oppure che so gli ultra e gli alpini che hanno tirato su in 448 degli ospedali da campo con tempi cinesi e sai anche qui è è facilissimo ovviamente andare sopra le righe ma è anche un rischio che che inevitabilmente corri nel momento in cui devi fotografare quello che accade in un paese che si è trovato travolto da un'onda di piena eh soprattutto qui in Lombardia soprattutto nei territori di Bergamo di Brescia del dell'Odigiano del Piacentino quello che è accaduto qui è è è un unico nella storia del dell'Italia ehm e e quindi francamente se rileggo oggi se rileggo oggi i pezzi che abbiamo fatto che ho fatto anch'io su quei su quei giorni non mi sento francamente di esprimere giudizi non per per assolvermi o per assolvere i giornali mainstream non è questo il punto non me ne frega nulla ma perché è davvero stato un periodo straordinario eccezionale e e chi poteva immaginare non potevano sapere i medici che cosa stavamo per 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 affrontare non potevano saperlo i giornali non potevano saperlo nemmeno gli amministratori e quante gaffe e quanti errori hanno fatto i sindaci i politici e e forse persino anche gli scienziati no storia di queste ore eh la 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 il dibattito la 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 dialettica accesa su alcune dichiarazioni e qualcuno che invece le smentisce è stato un periodo straordinario per tutti io lo lo terrei veramente come una fase che mi auguro non si ripeta ovviamente non con queste forme del della storia della nostra del nostro paese insomma sono sono d'accordo sul sull'unicità di questa della questione posta e quindi forse il punto è che ci potrebbe adesso almeno d'ora in poi che che si sta cominciando a respirare in qualche modo sempre con molta attenzione potrebbe essere questa l'occasione per ripensare una risposta nuova sul medio periodo e proprio perché effettivamente ehm una determinata retorica potrebbe in qualche modo dare adito a delle eh creazioni poi difficili da smontare ovviamente non stiamo se io che Paolo tra l'altro ho notato seguendoci eh tendiamo ad allargare abbastanza il campo quando si parla di democrazia dal dal semplice caso italiano a quello europeo in questo caso lo faccio io eh il l'emergenza covid è stata in altri luoghi eh una famosa famigerata democrazia liberale di Orban per esempio è stata una delle grandi scuse per riunire il popolo attorno a delle scelte che evidentemente sono liberticide eh da questo punto di vista ehm direi che eh comincia ora la vera sfida che ci ha posto questo questa crisi pandemica proprio perché come tra l'altro eh dimostra la storia è la ricostruzione il periodo più difficile sperando che si possa effettivamente parlare e ripartire dalla ricostruzione a proposito tra l'altro di eh momenti di crisi e di narrativa della crisi io eh nel mio libro ho eh specie nella seconda parte è seguito attraverso in particolar modo attraverso i film la costruzione del racconto post bellico di che cosa sia eh di cosa sia stato il rapporto tra il fascismo e l'Italia trovandone e credo di aver scoperto l'uovo di Colombo in realtà o addirittura l'acqua calda eh trovandone una una un'epopea autoassolutoria quanto mai diciamo che eh dai film a la letteratura più diffusa fino ad arrivare al a quella che io definisco la la costruzione della coscienza sociale da strada cioè una volta i i bar e in questo momento le eh a oggi le piazze virtuali ritengo che la il racconto autoassolutorio degli italiani brava gente sia nato sia scoppiato nel 1945 e fiorisca tutt'oggi ehm quanta parte ti chiedo posto che eh nel mio saggio eh in qualche modo ci inciampo più volte in questa narrativa quanto di questa narrativa del fatto che siamo belli bravi e buoni un po' guasconi non sbagliamo mai abbia a che fare anche oggi con la strumentalizzazione che vediamo del periodo di crisi e che in questi giorni si sta sciogliendo in manifestazioni non voglio nemmeno dare troppa pubblicità a quello che abbiamo visto eh sabato era evidente non solo perché aveva il colore arancione ma era evidente perché eh se ne è parlato eh quanta di questa incapacità eh di fare un confronto con le responsabilità di un'intera società eh in questo momento è complice anche del del momento di crisi e dei racconti che dalla crisi stanno nascendo cioè appunto il far da soli i bond patriottici oppure ancora peggio questi politici che non sanno fare nulla e quindi che vanno cacciati coi forconi cito eh è una semi citazione di di sabato scorso ma sai Francesco secondo me ci sono due piani che 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 forse è bene tenere distinti il primo è quello della demagogia eh del 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 della ricerca del consenso facile dove vai a far leva eh e quanto ne sappiamo noi che abbiamo in forme diverse ma insomma studiato il vecchio e i nuovi fascismi far leva sulla pancia della della gente no? Cioè accorciare il ragionamento offrire una risposta immediata a problemi complessi come si dice e e e questo è un piano pericoloso ma che in qualche modo abbiamo imparato a conoscere eh ed è la leva o la miccia l'innesco di 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 tutti i populismi chi domani scende in piazza in piazza del popolo e che l'altro che è sceso l'altro giorno in piazza del Duomo dove peraltro questo è un contenitore lo dicevamo prima molto largo dove trovi di tutto no? Dai Novax ai complottisti dagli estremisti di destra molti purtroppo ai gilet arancioni a a a a a a gruppi nati appunto su sulle chat che poi che poi eh arrivano in piazza e a questo proposito apro e chiudo parentesi mi è venuto mi si è accesa la lampadina dopo per dare forse una risposta compiuta alla domanda di 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 Carlo Greppi di prima eh la prova del nove ce l'avresti ma uso il condizionale andando in piazza domani interrogando le persone chiedendo quanti di loro nel nei giorni drammatici devastanti del covid usciva sul terrazzo alle sei e mezza a mettere il tricolore banalizzo brutalmente per capirci cioè il passaggio da quella reazione dal mio punto di vista anche è molto emotiva a qualcosa di più costruito che ha a che fare con con uno spontaneismo che poi a volte si può rivelare anche 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 pericoloso il passaggio ce l'hai andando a a prendere un campione e chiedendo questo campione cosa facevi il diciotto marzo quando appunto del dei camion militari trasportavano le bare di Bergamo e le terapie intensive erano al collasso eri uno di quelli che usciva sul balcone a mettere il tricolore perché magari attribuivi altri al tricolore un significato particolare e oggi infatti sei in piazza coi nuovi forconi oppure no questo potrebbe essere diciamo la soluzione ma che evidentemente è difficile se non impossibile da da trovare torno al solco della tua della tua domanda beh a molta parte questo questo aspetto questo approccio e questa è questa come dire quello che tu dicevi cioè il fatto che spesso ci rifugiamo e cerchiamo un cerchiamo protezione nella nella risposta autonoma dello stato forte dello stato che appunto da una 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 risposta immediata a problemi molto complessi e questo forse ha a che fare purtroppo spesso anche tu l'hai chiamato prima io la chiamo faciloneria o comunque questa cosa molto italiana che chiaramente non vediamo in germania che non vediamo nemmeno persino in francia che pure ha dei problemi non indifferenti e che non che non vediamo in altre democrazie forse più strutturate della nostra dove anche chi amministra o chi ha ruoli di comando segue regole diverse rispetto alle nostre qui lo abbiamo visto io non esprimo nessun giudizio sul governo conte e credo che qualunque qualunque governo e devo dire ho tirato un sospiro di sollievo quando quando abbiamo avuto contezza del fatto che non ci trovavamo ad essere ad essere governati guidati da persone che pochi mesi prima chiedevano agli italiani pieni poteri questo è un passaggio che io sottolineerei perché tu parlavi prima del dell'ungheria di orban dove con la scusa del coronavirus si orban è riuscito a prendere pieni poteri e quindi a sospendere temporaneamente chissà fino a quando la democrazia non dimentichiamoci che nel nostro paese un ministro un ex ministro in una stagione forse di eccessiva frequentazione delle spiagge di quelle spiagge che oggi faticosamente tentano di riaprire magari tra un aperitivo di troppo chiedeva agli italiani di dare di dargli pieni poteri questo è avvenuto anche in Italia e siccome in un passato buio qualcuno in Italia lo ha già fatto questa operazione ed è andata a finire come sappiamo e come tu racconti nei tuoi libri quel pericolo lì l'abbiamo scampato dicevo io non esprimo un giudizio su come se il governo conte fatto bene o male penso che qualunque governo si sarebbe trovato di fronte trovandosi di fronte a questa cosa enorme planetaria devastante avrebbe inevitabilmente compiuto come sono stati compiuti degli errori delle superficialità delle leggerezze forse anche un modo di comunicare non non adeguato però ecco tutto questo è è certa è stato ed è certamente permeato da quello che tu dicevi anche se vuoi le soluzioni le ricette che poi sono diventate concrete no che 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 sulle quali io non 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 mi addentro perché perché materia per per economisti per per chi per chi studia i bilanci degli stati no c'era inevitabilmente una forte richiesta immediata di 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 una soluzione o di qualcosa che potesse assomigliare una soluzione questa è stata servita solo la storia deciderà e stabilirà se 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 poi saremo in grado di restituire quella montagna di denaro che 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 abbiamo stanziato per far fronte all'emergenza italiana un paese già eh falcidiato dai debiti e che qualcuno l'altro ieri per il quale qualcuno l'altro ieri prefigurava addirittura un destino simile a quello della grecia no o della o della spagna del del che che abbiamo raccontato e quindi e quindi questo però è ci porta secondo me ad un ragionamento che è quasi che quasi antropologico che 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 va ad analizzare davvero il come siamo noi italiani e l'italiano e torno al al e chiudo con con il il sondaggio di ilvo diamanti che io personalmente stimola prezzo e seguo da quando lavoro sono passati vent'anni a a repubblica e quando lui è venuto a repubblica dandoci il suo prezioso contributo torno ad analizzare il dato per cui l'italiano quando ci sono i problemi ricorre alla scappatoia la soluzione breve eh o o cade nell'inganno di chi ieri c'era salvini oggi c'è pappalardo non li voglio mettere sullo stesso piano ci mancherebbe ma insomma ci sono delle analogie no in questa in questa richiesta in questa nella sfida della piazza lo stesso salvini si era promesso di fare un lungo tour per le piazze italiane soltanto il lockdown di coronavirus lo ha lo ha fermato e forse anche un po i sondaggi che oggi lo vedono in calo e che e che sembrano premiare chi chi compagno di viaggio del sovranismo giorgia meloni usa magari magari soltanto per finta dei toni e delle modalità soltanto leggermente diverse ma tanto basta per allora se quasi un italiano su due non si fa problemi a rinunciare le proprie libertà e ai diritti che la democrazia ci garantisce per avere un po di sicurezza e qualche certezza in più in un momento di fragilità e di sbandamento io da lì ragionerei e da lì e lì tornerei per chiederci se un certo approccio italiano ai problemi non abbia davvero a che fare con quella che che l'iliana segre cito anche lei mi fa piacere farlo se non non soltanto per 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 il grande lavoro che che l'iliana fatto nelle scuole per diffondere i valori della conoscenza della storia l'importanza di di riconoscere in modo netto il bene dal male e anche per il fatto che come che come me che però 47 anni lei ne ha quasi 90 si trova a vivere sotto scorta nel 2020 dopo aver già rinunciato a pezzi importanti di libertà quando era bambina il diana segre dice l'italiano in qualche modo non ha mai smesso di essere un po fascista perché la fascinazione per l'uomo forte per la soluzione breve il fidarsi di chi promette una soluzione anche quando non ce l'ha in mano tutto questo è un po connaturato con la nostra con il nostro dna e infatti l'iliana segre non si smeraviglia del fatto che gruppi neofascisti tornino ad affacciare ad affacciarsi a rialzare la testa perché dice molto semplicemente non è che il fascismo è è rinato ieri il fascismo in qualche questo paese non ha mai smesso in qualche modo di vivere è un po un fiume carsico che riemerge a seconda delle stagioni del nostro della nostra storia questa evidentemente è una stagione che si presta un ritorno dei 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 facilitatori delle soluzioni comode e questo vale e vale per tutti gli ambiti della nostra della nostra società da quelli più banali a quelli più complessi e delicati e quindi evidentemente c'è qualcosa nell'italiano che favorisce che favorisce la facidoneria o la superficialità con cui alcuni soggetti che vogliono che vorrebbero diventare protagonisti della scena pubblica in questi giorni ne abbiamo l'ennesima prova sia si propongono al popolo e cercano di accreditarsi facendo leva sul fatto che il popolo li ha legittimati a scendere in piazza o a darci una mano questo lo hanno fatto dei ministri della repubblica italiana questo lo fa persino un ex generale dell'arma dei carabinieri in congedo e che è stato già sospeso dall'arma allontanato dall'istituzione dell'arma dei carabinieri e di che dobbiamo meravigliarci come si dice sì io non sono tra quelli che appoggiano ovviamente non è non è il caso di del discorso che si stava facendo però sono molto sto sempre molto lontano dal determinismo etnico anche perché vi vedo in una regione di confine io sono sempre spaventato dallo stereotipo che l'uno l'altro mi tira addosso però sono molto d'accordo che non l'italiano ma in generale il la persona il singolo che si trova in difficoltà ha bisogno di messaggi forti ed uno dei problemi evidentemente del della memoria pubblica di questo paese è che i messaggi forti per quanto squinternati sono stati dati anni fa e dal fascismo e a questo messaggio forte non è stato non è stato poi risposto con un racconto altrettanto forte o meglio per una cinquantina d'anni in questo paese si è tenuta in piedi una forte rappresentazione della resistenza come rinascita del popolo italiano e ha creato in qualche modo tu prima hai usato in maniera molto corretta secondo me termine liturgia proprio perché richiama la sacralità ha messo in piedi la sacralità dei valori dell'antifascismo come fondanti ahimè quando all'inizio degli anni 90 per evidente incapacità propria la prima repubblica si è suicidata eh nelle ruberie eh è probabile che una parte del nostro paese abbia buttato insieme alla prima repubblica anche i valori che sostenevano la prima repubblica portando forse a quella relativizzazione che adesso fa fare a tanti di noi eh un giro molto strano per arrivare a capire ciò che si pensa o ciò che si dice intanto il dibattito eh accanto eh alla nostra diretta è andato avanti con delle puntualizzazioni che che secondo me sono molto eh corrette e azzeccate c'è Alessandro Gagliardo che pone la domanda schietta ma patriottismo e nazionalismo crediamo siano la stessa cosa e a stretto giro Redan Arnone gli risponde assolutamente no il concetto di patria viene strumentalizzato sovente per divulgare ideologie che vorremmo trovarci alle spalle ricordiamoci un paio di presidenti della repubblica fa eh Carlo Azzeglio Ciampi non a caso tra l'altro un ex azionista in gioventù che tentò di riabilitare la parola patria ahimè eh soffocata dal dal problema della sua collateralità al fascismo poi eh per concludere ancora la la piccola che era il suo bandiere c'è Carlo Bosso che eh dice nel mio quartiere di Torino abbiamo esposto le bandiere italiane anche il 25 aprile e cantato bella ciao nota margine simbolo che mi piace molto è stata una manifestazione quindi Carazze Carlo è stata una manifestazione spontanea per sottolineare il valore della libertà in un momento drammatico forse il più drammatico del dopoguerra le band la bandiera è diventata il simbolo della voglia di rinascere e soprattutto per e non contro ecco io eh sono molto felice che ci sia questa visione sono altrettanto interessato dal fatto che questa visione venga dai cittadini ma in qualche modo non ci sia un ancora una volta io lo chiamo racconto pubblico non ci siano delle istituzioni che lo chiariscano definitivamente dicano noi abbiamo bisogno di costruire la nostra identità attraverso determinati valori per esempio dei valori che sono rispetto dell'altro se noi avessimo declinato in maniera diretta il rispetto per l'altro che è un valore antifascista perché attenzione all'altro sabato non avremmo permesso che centinaia di persone si candidassero vestite d'arancione a rioccupare le terapie intensive che con così gran fatica siamo riusciti a svuotare ultimamente quindi diciamo che in questo modo c'è anche una eh un richiamo all'oggi che un certo antifascista antifascismo potrebbe aiutarci a a a sconfiggere siamo nei nostri ultimi dieci minuti poi so che che paolo deve eh fuggire per per lavoro ed impellenze c'è una domanda che credo sia mia ma eh che 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 faccio a entrambi domanda non è forse un problema dice luca finanzi eh non aver mai chiuso i i conti con il fascismo eh nel decennio post quarantacinque penso ai posti strategici quali le prefetture e l'errore grave di aver riportato in Parlamento i fascisti normalizzando l'ideologia fascista sì è un domandone la risposta più compiuta la troverai in un libro di recente uscita che si chiamano perché siamo ancora fascisti eh diciamo un attimo reggieri però velocemente ti rispondo dicendo è stato un tema è stato un problema enorme che ha a che fare con un bivio eh lancinante che ha travolto i governi eh che gestivano la fine della guerra civile noi ci ricordiamo per esempio il governo dell'azionista Ferruccio Parri che mise in piedi il il meccanismo della defascistizzazione le commissioni di defascistizzazione molto difficilmente tra l'altro e non dobbiamo dimenticare che fu il primo governo De Gasperi quindi a guida democristiana ancora in periodo monarchi con la prima era del 46 a chiudere l'esperienza della defascistizzazione si era di fronte ad una scelta complessa e straziante a cui io non saprei dare risposta eh sinceramente ma la la diciamo che i due poli della questione erano defascistizzare un paese che era fascista fino all'osso quindi banalmente definire chi era fascista con la tessera del partito con la condivenza troppo difficile in vent'anni di storia oppure scegliere di mandare avanti la macchina dello stato per quanto si riusciva e sfruttare l'ente statale tentando di ripulirne la crosta per far ripartire un paese ebbene io non so quale sia la scelta corretta so dire a Luca che eh quando nel quando il 2 di giugno del 46 tra le altre cose gli elettori dovettero eh dare o meno la fiducia ai partiti che fecero quella scelta i partiti che scelsero la semplificazione scelsero la cosiddetta pacificazione i partiti che votarono per la chiusura delle proposte delle commissioni di defascistizzazione e cioè democrazia cristiana ma anche partito socialista e partito comunista italiano insieme ebbero i due terzi dell'emiciclo l'unico partito che si batte eh con le unghie con i denti per portare avanti anche magari in maniera un po' se vogliamo eh non non trassognante per non non però idealista è una parola che nella politica italiana si trova poco eh l'idea di una defascistizzazione del paese cioè il partito d'azione di Ferruccio Parri alle urne prese l'1,45 per cento quindi diciamo che anche la volontà popolare nel 46 entrante era abbastanza chiara e non so se hai da aggiungere eh qualcosa soprattutto sull'oggi cioè sulle venature fascistizzanti che ha eh anche il nostro eh il nostro apparato di oggi e poi tra l'altro dobbiamo cominciare a pensare alla chiusura perché ma guarda no al volo è tutto vero quello che tu dici lo sottoscrivo è vero che non c'è stata una Norimberga italiana è vero che ci siamo trovati il paese si è trovato con un lascito ehm nelle prefetture nelle questure nei pubblici amministratori lo diceva il nostro il nostro ascoltatore lo sottolineavi bene eh tu poi c'è anche un aspetto ma che è come dire incorporato in quello che tu stavi dicendo un processo secondo me molto pericoloso ed è quello che che riguarda la rimozione della memoria collettiva cosa che in altri paesi per esempio non è accaduto eh non è accaduto in Germania non è accaduto in Spagna eh in Italia complice anche il lavoro eh a volte certosino ai fianchi di certi politici quegli stessi che ci dicono che i fascisti non esistono più che il fascismo è morto nel 1945 tutte queste belle storie qua che purtroppo non sono vere si è generato nell'opinione pubblica nel senso comune l'idea che in qualche modo quella roba là fa parte del passato e non ritornerà più non è vero non è vero e ne prova il fatto che in realtà è tornata o come dice appunto Liliana Segre non in realtà non se n'è mai andata via ma oggi riemerge con forme nuove eh tu mi chiedevi un contributo sull'oggi guarda te lo do in due parole l'oggi è determinato dal fatto che rispetto a chi ha sdoganato i i i i i post fascisti in Parlamento insomma ricordiamo il primo a farlo fu Berlusconi no che 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 richiamò vantandosene anche lo ha fatto anche qualche mese fa dice siamo stati noi a portare a portare i fascisti in Parlamento no e poi sono successe tante cose ma nessuno io non ricordo io non ce l'ho con Salvini peraltro sono uno di quelli che pur avendo non avendogli mai fatto sconti anzi avendo più volte scritto eh dei dei suoi rapporti documentandoli con con i gruppi le formazioni di estrema destra o con le curve ultra in mano ai capi ai capi fascisti eh credevo e credo e penso che Salvini non sia non sia fascista ha semplicemente fatto qualcosa di ancora più pericoloso cioè ha giocato a fare il fascista e forse gli effetti di quella stagione di propaganda irresponsabile dove si è strizzato l'occhio ai gruppi neofascisti eh gli effetti li vediamo oggi li vediamo nelle piazze dei gilet arancioni li vediamo nei nuovi forconi li vediamo nella sfida della destra al 2 giugno li abbiamo visti il 25 aprile dove io ho raccontato sul sito di Repubblica che a Verona sul pennone dello stadio Bentegodi qualche qualche manina anonima a Verona ce ne sono molte purtroppo ha aissato la bandiera italiana della RSI il tricolore della Repubblica di Salò allora queste cose accadono oggi non non sono accadute vent'anni fa quindi cosa è che è successo in più rispetto a ieri o rispetto allo sdogganamento operato da Berlusconi è successo che dei politici in modo decisamente più convinto e più spinto hanno iniziato a eh a replicare letteralmente gli slogan del fascismo eh ci sono stati i ministri della Repubblica che in una stagione molto recente hanno hanno postato sui canali social i motti mussoliniani tanti nemici tanto onore chi si ferma è perduto io non mollo eh tutta sta roba che che non sono citazioni eh di di Gandhi eh si sono depositate nella memoria non di tutti per fortuna ma di molti e e quando le cose si depositano poi spesso generano mostri generano conseguenze generano eh tricolori usati in modalità particolari e quindi e quindi stiamo attenti a questo cioè stiamo attenti a chi ha riabilitato eh i fascisti a chi li ha gli ha sdoganati a chi li ha fatti e li fa sentire legittimati e in qualche modo spesso anche coperti coperti dall'alto perché quando tu hai protezioni quando hai delle sponde politiche in alcuni casi anche spazi di agibilità finanziamenti ti senti molto sicuro di te e allora a quel punto cade ogni pudore cade ogni forma di 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 elitrosia e quindi dici ma perché io fascista devo avere vergogna a mostrarmi o a scendere in piazza eh se in qualche modo sono accettato nel nel dibattito pubblico e e mi viene dato spazio questo è quello che è accaduto nel nella nostra recente stagione politica e mi permetto di aggiungere anche sociale alla luce anche degli eventi di queste ore questo è quello da cui noi dobbiamo guardarci con molta attenzione con molto rigore perché perché quando poi il recinto si apre e poi escono farvi rientrare spesso è molto complicato verissimo tra l'altro perfettamente in orario abbiamo ancora una domanda al volo proprio tutta per te ehm non so se potrai rispondere in maniera telegrafica da parte di Barbara eh Bertoldi ehm ma quanti anni quanti anni hanno in media questi gilet arancioni e questi ultrati di cui parli tanto per capire se è un problema dei giovani o se è un problema diciamo multi multi età no guarda l'aspetto anagrafico è assolutamente trasversale ci sono giovani eh giovanissimi ci sono persone in età più matura guarda mi permetto di rispondere a Barbara con una piccola storia purtroppo personale ma che forse fa capire di cosa si compone questa variegata galassia dell'estrema destra o dei 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 neosovranismi che poi scendono in piazza e magari hanno questo braccio che 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 ha molta voglia di tendersi in forme di saluto che 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 ben conosciamo li abbiamo visti in piazza Duomo no questi senza mascherina il gile arancione avevano tutti il braccio sollevato un un solo braccio e lo faceva anche Pappalardo sono modalità che a me non sfuggono forse perché sono eh temi di cui mi occupo da molti anni dicevo una piccola storia che mi riguarda la scorsa settimana eh per fortuna ogni tanto arrivano anche delle buone notizie eh la procura di Bergamo e i carabinieri di 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 Bergamo hanno fatto un'operazione e hanno perquisito eh le abitazioni di una decina di militanti di estrema destra eh alcune dei quali anche ultra in particolare di alcune squadre che che le cui curve sono tradizionalmente in mano a gruppi di 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 neofascisti mi riferisco per esempio alla curva del Verona o dell'Inter e hanno fatto queste perquisizioni e hanno indagato questa decina di persone per minacce eh reiterate in tutto il 2019 nei miei confronti minacce arrivate via social che purtroppo continuano ad arrivare ma ormai eh purtroppo ci ho fatto la l'abitudine eh allora il più giovane di questi militanti aveva diciassette anni e gli hanno trovato a casa un'ascia dei coltelli oltre delle svastiche il più anziano aveva 55 anni e di mestiere fa l'imprenditore allora tu dici ma non tutti i gerancioni sono dei dei neonazisti o dei neofascisti certamente sì ci saranno anche commercianti esasperati ci saranno ristoratori che che non hanno riaperto dopo il lockdown perché non sono eh nelle condizioni di farlo ci saranno persone inoccupate o che aspettano la cassa integrazione che sono e che sono furibonde per carità è tutto vero ma ci sono anche purtroppo e molti militanti di estrema destra accanto ai giri arancioni sono scesi in piazza e scenderanno in piazza i militanti di casa pound di forza nuova del veneto fronte skinhead che è la più eh vecchia formazione neonazista che opera in Italia che opera ancora in Italia allora ti ho fatto questo esempio perché queste dieci persone che mi hanno riversato tutto il loro odio le loro minacce eh per 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 mesi e che e che hanno 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 ricevuto la visita l'altra settimana scorsa all'alba dai da parte dei carabinieri e che mi auguro pagheranno per le loro responsabilità perché minacciare di morte una persona in una democrazia è reato eh hanno eh eh provenienze mestieri età eh le più diverse eh che si possano immaginare quindi il virus dell'odio eh provo a chiudere Francesco con questa riflessione noi sconfiggeremo forse secondo qualcuno lo abbiamo già sconfitto io sono tra quelli che pensano che ci voglia ancora un po' di tempo e non sono uno scienziato faccio un altro mestiere sconfiggeremo il coronavirus certamente sì ma ci accorgeremo che il virus dell'odio continua a circolare ehm nella nella in Italia e continua a contagiare e finché non troveremo il vaccino per l'odio e questo virus continuerà a a a a a girare e continuerà purtroppo spesso a a fare a a mietere vittime eh di di ogni di ogni genere tipo no da 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 dalla comunità LGBT agli immigrati a richiedenti asilo gli antifascisti ehm e e e chi viene considerato diverso da 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 dai suprematisti che ci sono anche in Italia non sono soltanto in America suprematisti ce ne sono anche in Italia dobbiamo trovare il vaccino contro l'odio io penso e credo e mi piace pensare che l'informazione chi come te Francesco come noi fa fa uno studio eh fa lavori di scavo di ingrandimento sul passato e sul presente possa rappresentare un 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 piccolo contributo di conoscenza perché spesso l'informazione è il miglior antidoto all'odio la cultura è un presidio fondamentale per eh arginare certe derive e quindi mi auguro che finché non troveremo il vaccino all'odio e i i i cittadini continuino a guardare questi fenomeni guardandoli in faccia puntando l'indice come diceva Umberto Eco eh e tu ricordi benissimo che quale fu il suo monito ci disse guardate che il fascismo non è morto per sempre anzi è in grado di rinascere di riprodursi in ogni angolo del mondo in qualunque momento storico tocca a noi a noi cittadini puntare l'indice e smascherare le nuove forme di fascismo che magari si chiamano in un altro modo si chiamano magari sovranismo si chiamano gilet arancioni si chiamano camice bordeaux o marroni ma quello sono e a quel fenomeno noi dobbiamo guardare dobbiamo sconfiggerlo eh con con la conoscenza e poi ovviamente anche facendo rispettare le leggi che nel nostro paese ci sono vanno soltanto applicate dal mio punto di vista con più rigore. Grazie grazie mille Paolo Berizzi io rubo la conclusione a uno dei nostri commenti che tra l'altro ci fa sapere che siamo riusciti a a violare le leggi sul sulla circolazione perché leggo un commento del collettivo delle pecore ribelli di Berna che se non le conosci conosci le Paolo sono dei fantastici ragazzi che fanno antifascismo nella capitale Svizzera con con la grinta che raccomando e che scrivono dal loro osservatorio una piccola riflessione in Germania i partiti di destra e di estrema destra alternative F Deutschland in particolare che prima della crisi cavalcando i temi come la malassanità le efficienze varie dello Stato in Germania tra l'altro erano arrivati a livello nazionale circa il 12 per cento dopo la crisi eh i sondaggi non non li premiano li fanno molto più bassi morale di fronte all'evidenza il sistema sanitario tedesco non si è saturato sono stati aumentati massicciamenti post interattiva intensiva i tedeschi hanno capito e questo si è riflesso sulle scelte di voto eh diciamo che un un atteggiamento di di razionalità spesso è il primo e principale antidoto a queste derive fascistoidi che purtroppo di razionale hanno poco di emotivo hanno tanto una volta si diceva eh sono sono movimenti che parlano alla pancia io però non mi stancherò mai di ricordare la pancia eh quale prodotto abbia nel eh suo modo di comportarsi all'interno del corpo quindi se vogliamo continuare a parlare alla pancia alla fine la pancia sempre quello produrrà io ringrazio il circolo dei lettori ringrazio in particolare perché ho saputo che accoglieranno e distribuiranno con gioia eh spero con gioia i nostri libri eh i ragazzi della libreria Comunardi un nome che è una garanzia che ci richiama una delle più belle esperienze rivoluzionarie dell'ottocento quella della comune di Parigi ehm i libri sono di Paolo Berizzi per Feltrinelli l'educazione di un fascista e eh scusatemi l'autocitazione Francesco Filippi ma eh perché sono ancora fascisti bollati i boringhieri grazie a tutti un saluto a Paolo grazie per cosa grazie a voi grazie a te Francesco e grazie a tutti grazie a tutti